Non c'è tregua per il Monte Pisano che anche in questo giovedì ha visto fiamme alte anche 30 metri che hanno divorato gli olivetti sopranoce nel comune di Vicopisano. Grande apprezzione nell'abitato di Lugnano dove tra le fiamme esplosa anche una bombola di GPL. Stamattina di nuovo le fiamme? Sì, di nuovo le fiamme. Esplosa anche una bombola su un capano. Stamattina presto non c'era niente, 5 e mezzo, 5 e mezzo era tutto spento e poi dopo mezz'ora, 40 minuti c'erano già le fiamme alte. Può essere stato appiccato? Non lo so, si può pensare tutto e niente, però è così. La sua casa è quella lì già contornata dai focolai. E' un'apprezzione? Abbastanza, abbastanza. Ma c'erano anche delle bombole? Sì, c'è la bombola del gas che abbiamo riempito il serbatoio proprio la settimana scorsa. Immediato anche stamani l'intervento dei volontari del comune di Vicopisano. Quel magazzino dove c'è stata l'esplosione prima potrebbe contenere ancora materiale esplosivo, quindi non vi avvicinate assolutamente a quelle strutture. è già scoppiata più di una, questo cosa c'è dentro le baracchie non si sa, però mi non ne ha spingi. E' nelle aspettative, un incendio di 1400 ettari naturalmente, i tecnici ci dicono che può riprendere, è toccato a noi, è toccato in questa zona, per cui insomma ci sarà un presidio, dobbiamo gestire questa situazione. E noi in questo pomeriggio abbiamo provato a salire le pendici del Monte Serra, il paesaggio. È lunare, alcune case sono state interamente bruciate per questo e sta partendo anche una raccolta fondi spontanea sui social network in fumo. Anche 150 ettari di olivi per una perdita, di 900 quintali di olio pisano distrutti, gli oliveti storici della verruca, è spento l'incendio. Da domani inizia la fase della bonifica. Si tratta di ripulire la montagna che è bruciata, di portare via gli arbusti, di portare via gli alberi bruciati a metà, ciò che è rimasto sul terreno, anche perché se no, anche le ceneri, perché altrimenti aumenta l'acidità del terreno e può essere problematico, insomma, ripulire come deve essere fatto e come sanno gli esperti. Intanto in tutto questo, una buona notizia, l'Arpat non avrebbe rilevato inquinamento di fumi nei fiumi e verso il mare, tutto questo a conclamare ancora di più la naturalezza e la salubrità della vegetazione andata in fumo. Grazie a tutti.